Vai, vai, Sopi! Con questo esercizio al volteggio, la ginnasta piacentina della società Acrobatic, Sofia Solari, ha conquistato lo scorso weekend la medaglia d'argento nella categoria Signor 1 ai campionati italiani di ginnastica artistica. Io ho aperto la gara al volteggio e poi alla fine sono andate tutte le altre, ho visto che piano piano continuavo a rimanere nei primi posti e poi fino alla fine sono rimasta prima, l'ultima poi è arrivata davanti a me, quindi poi sono arrivata seconda e è stato bellissimo. Una soddisfazione penso che ripaghi le tante ore di allenamento, le tante ore di fatica. Quanto ti alleni? Qual è il tuo ritmo? Io mi alleno tutti i giorni, tre ore, tre ore e mezza, tutti i giorni tra il giovedì e la domenica. È molto faticoso e anche molto impegnativo, dato che anche a scuola è bella tosta, quindi è molto anche faticoso, però essendo abituata fino a quando ero piccola sto imparando piano piano sempre di più a gestirmi sempre al meglio, se con lo studio che con i compiti in generale e per adesso mi piace, quindi continuo molto volentieri. Federica Gatti, 14 anni, si è classificata nona su 40 partecipanti nella specialità del Corpo Libero, categoria Junior 2. Com'è andato lo scorso weekend? Ho fatto parallele Corpo Libero, sono molto soddisfatta degli esercizi che ho fatto e mi porto dietro una bella esperienza. Grazie a tutti.